ciao amore rimani a pace ma brava ti metto anche il db killer pensa che bravo bambino adesso ciao bambini sono giù in mutande vieni dai andiamo a letto bonnie sta bene quando dovranno mettiti un piede per terra siamo in un aeroporto perché stiamo andando a las vegas andremo tutta defaus per 20 giorni in america e prima siamo invece io e flo sto facendo un video dove gli fa mangiare sti così per tutto l'aeroporto siamo in aereo ci sono meno 5 gradi io ho freddo io mi sento un intreccio tra assurri e sfera e pasta siamo nella cili benizzone con questa qua dormi di sicuro e l'ho preso come quello come sonnifero bevete solo per dormire me lo giuro sono brillo giustamente per dormire l'ho presa anche io non la scelterò mai per avere una volta più bella tu resta un po' l'ambo tu sei alcolizzato con copertura buonino cucchiaino dai coglione abbiamo rubato un'altra bottiglia ma siamo arrivati fa un caldo porco 44 gradi siamo in mezzo al deserto dai ora si vola in hotel andiamo a spedere soldi stanno i soldi non nostri sono partito con 60 dollari in un testimone a 500 dollari e sono partito con 3.800 giorno 2 abbiamo appena detto ai ragazzi di the house che noi siamo a las vegas ci stanno raggiungendo oggi andremo un po in giro per los angeles sperando di non essere arrestati perché flo ha in mente di fare uno dei suoi video youtube una cosa positiva di las vegas è che ci sono 43 gradi tipo però percepiti sono molto di meno perché è un caldo secco vero florino florin vita in america ti danno un sacco di bigliettini in giro di escort diciamo così che a me piace conosce le persone del posto quindi mi devo informare a mattina su chi sono io solo perché sono una persona educata no ci sono i canali potabile l'acqua c'è nella produzione di proprio di venezia ma è proprio figo ragazzi il canale non si vuole sposare per avere la cittadinanza americana go bro go bro go bro tu vai dentro con 30 dollari e prendi i soldi possibili e poi con i soldi che guadagni hai questi premi bro almeno devi prendere 10.000 dollari bravo 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 ok finale 6.338 occhiali dai proviamo questi occhiali veloci flo 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 ma siamo a parigi e c'è la pizza ma poi i francesi che fanno la pizza ma sono le buone hanno fatto la riproduzione della torre eiffel ma rega ma veramente è quasi quanto quella vega stanno arrivando i ragazzi al solito flo ci prova con le tipe questo è la nostra cameretta ci siamo ritrovati all spettacolo di magic mic se non appena accorti che sono tutte donne riattuto donne arrabate che vogliono fare un francese Eccola E' finita E' finita Ciao a tutti Io fermo E' mia donna E' mia donna E' mia donna Ci è venuta un'idea Obiettivo agganciato C'è soltanto tipo una zebra Di vedetta Buongiorno Abbiamo tenuto questo come souvenir No abbiamo fatto una cazzata Guarda cosa c'è la Porco Perché sei caduto Che droga ti hanno offerto al casino Sicuramente ne conosci di più tu Siamo all'area 15 Marco riprenditi tu questa porta Perché non si chiude la borsa Marco Ma cazzo lanci i sassi Che ci scommettiamo io e te Quello che vuoi Ho uno schiaffo sulla schiena nuda Oh ci sto Bastardo di me Dammi i piedi A No No Ma mi immagino Simo l'immagine Alla fine ha perso Ciao Stefanino Allora ascoltami Come si chiama il posto dove hai fatto La sfida del panino enorme 20.000 calorie Stasera ci vado Sì però mi sa che provo quello da Da 10 Quella da 20 non ce la faccio Alcuno vuole sflacciarmi? Ok però ti fanno un panino Ok dove decidi quanti hamburger vuoi Da un hamburger fino a 8 hamburger Che sono 20.000 calorie For me quadruple bypass Plus bacon Quanti calorie? 9.982 Guinness world record Il quadruple bypass La che ho preso io Con 9.982 calorie È stato un Guinness world record Il 13 aprile del 2012 Mi hanno detto che il bagno è molto figo No no non posso fare il flow di turno Tipo è a 90 Nooo Questo è proprio per me Hai visto che quanto è piccolo E c'è questo Se il bagno di maschi era così particolare Com'è il bagno? Ti chiedo di mostrare il bagno delle femmine Ma le infermiere sono anche qua Oh come si spegne questa cosa? Non so come si spegne Come si spegne? Ok è arrivato il panino È questa bestia E volevo dire a tutti i trapper Che questi sono 10k come i vostri rolli baby Proverò a finirlo Sarà impossibile Però sono stato a digiuno soltanto per questo Siamo al primo strato No non ce la faccio Sicuro non ce la farò mai Primo strato è andato C'è un braccio magro Questa qua ti prende a pugni tranquillamente Buonissimo Andiamo col secondo Non ce la fai zio Sono a metà No ma stai scoppiando No non ancora Secondo me mi fermo dopo il terzo No 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 Ma io non dice no 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 Attenzione siamo a metà Sinceramente non so come Stefani quella volta sia riuscito a fare Un doppio di questo raga Comunque mi sto ancora reggendo eh Ma porca trota Le ho rovinati vero per sempre Non lo so Non lo so Non lo so Oh 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 Dai Defni Oh 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 capito ho capito va bene così questo è il terzo è quasi ma quasi alla fine io lo finisco non ci devi pensare però se è la fine non lasci così no non hai più forza di massicare sono esattamente a 7500 calorie e mangiate io ho un altro morso riesco a darlo di più non lo so questo è ciò che rimane un pezzo di pane un hamburger un po di bacon e raga ve lo giuro ma mi è venuto tipo sonno non ho più energie mi ha messo capo non hai finito il panino dai e niente raga questo video finisce questo video finisce qui dopo più di 7500 calorie un bacione un saluttone e ci vediamo il prossimo video però però tutto bene dai fra la skyline ora però vomito addosso alla gente definitivo vomito addosso alla gente bellissimo